ehi ragazzi eccoci questo nuovo video da exy burning like exy subaro baracca exy capitale legnata oggi ci troviamo in un gioco praticamente assurdo assurdo a dir poco assurdo questo è un gioco di merda punto e basta sanki the game santo canna sanki la parodia di premie end si riesce manda a partita tanto che è di merda si infatti vabbè qua ci vuole veramente ok perfetto vabbè utilizziamo il volpino per prima la volpe ha due code una capra le volpe fanno bene ma direi che c'è un gioco di merda si ma che si deve fare qua che c'è cioè ora si deve camminare a caso ma questi sono salti si facciamo la faccia si può fare mamma mia ragazzi voi non potete capire come sto soffrendo guardate guardate vediamo di saltare usando questo qua per le sue però almeno è tranquillo senza ostacoli senza niente senza senza animali squartati a caso ma mi spiegate il senso ragazzi il senso che cazzo mi ballate al ritmo non ha un cazzo di senso sto gioco dai lol io sono morto ahahah ahahah grazie al cazzo mamma mia ragazzi non vedete di come sto soffrendo oh è finita sta musica di merda mamma mia yeah è mu c'è il personaggio del titolo ah bene mi fa piacere avviciniamoci tanto hai gli occhi russi andiamo a fare una festa si no voglio andare a fare una festa non ho imbattito non ho imbattito non ho imbattito never petty cake never petty cacca anzi basta con queste trottere per favore dai amore per favore dai che è già abbastanza cioè ma vi rendete conto come salta cioè quando fa così sembra che qualcuno gli aiutti anche una pitta nel culo perché sono i che se bug cambia musica a caso perché si risolta ma non lo puoi fare di uccidio è caduto a terra poverino e che sta facendo che è slender si questo è divertirsi si aspetta voglio provare un po' con io a questo punto vediamo un po' se madonna ragazzi cioè è mai possibile e fatti il video che dice guarda come è felice adesso il prossimo che è knuckles sto mezzo barbuto di merda qua si ragà ma poi vi rendete ancora là per correre si se era un cavallo faceva la stessa faresti bene a non correre ma hai bisogno di correre perché non riesci a fare altro ma vi volete prendere per il culo jump mannale è istruito che cazzo è successo si jump 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 perchè c'è sangue perchè c'è sangue ti passa da tutto ah si what a ghost un fantasma ma che cazzo di ah che dice eh inserisci un zombie qua dentro che cazzo di che cazzo vuoi tu leggende di merda eh stronzo jump guarda che pezzo di merda e come cazzo lo devo trollare così qualcuno ehi jump non ha senso come lo devo trollare jump come sai li devo saltare addosso ehi come a ahahahhah ahahahhah non ha senso è vero perchè cosi alcuni bali eh dopo alcuni altri balli vabbè e ne 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 abbiamo fatto alcuni balli vuoi ballare? Sì si e c'è quest'altro e c'è sto tizio che muove fanno ma che santuario Ah salta non bella Chi cazzo è questo? Ma perché sta con le mani così Tiene uno sterzo? Sto guidando Sì sta guidando Ma salta questo Ma questo non salta Ah va bene Mi sembra anche giusto Accendi fare Accendi fare Che non si veda niente No si possono cercare Oh siamo nel bus Continua a camminare Vai Tanto Cosa potrà succedere Infatti cosa potrà succedere Siamo cadere Che cosa mi soñajara Adesso Lo preparo Rapi dance Ma che senso Un volumente Tante La pace Este tutto Esa tutta La cimera La pavola Yeah Fantastico Assolutamente Ancora la sta pazza No? Guarda Per prima metterla X Per prima metterla X Invece di Hai proprio ragione Guarda E mo? Se tu non parli Io non parlo Tu non parli? No Occasionalmente sunk Occasionalmente stronzo Occasionalmente stronzo Oh che toglie Che sta scritto? Si è finito No è finito il coso Ancora Bah Si Nel frattempo Cioè ma finisce così Si Ma che cazzo di senso Aveva sto gioco Oddio Madonna ragazzi Ho vissuto l'esperienza Più orribile Della mia vita E le musichette Però erano belle Dai Le musichette erano belle Oh certo Erano bellissime Le musichette Vabbè raga Allora Prima che esco di testa Sarebbe meglio Concludere qui il video Con la tua Stronza Perla di saggezza Che cosa dici? Non è stronza La mia perla di saggezza Madonna ragazzi Mamma mia Bella esergezza di XB Buon ingratto Scusa ma Non ci vedo Vabbè Tu non ci vedi proprio Vabbè Vabbè A parte che questo Continua Sposta questo Cosa qua Sposta Non ci credo Non ci vediamo Non fa niente Vabbè Comunque si Mettiamo la scrittà No Perfetto Per esergezza di XB Buon ingratto Tratto da qualsiasi cosa Vai Non dire da questa merda di gioco Perché ce l'abbiamo fatto Trenta volte Quindi I spettatori a casa Si potrebbero annoiare E inventano una nuova Bene Allora Tratto da le fogne Le fogne Le fogne L'idratazione pubblica Idratazione pubblica Eh pubblica Dipende appunto Da un buon sistema fognario Quindi Se qualcuno scappa Cent'euro Cent'euro Nelle fogne State tranquilli Qualcuno Stanno meglio di voi Le fogne Stanno meglio di voi Ci vediamo alla prossima Qui da XT Burning Light XT Capitale Egnata XT Subbar Barakakak Tanti commenti Tanti likes All'uscì in su E seguite sempre Pelle di sancezza Il nostro XT Burning Light E iscrivetevi Ci vediamo Ciao 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 Mamma mia Grazie a tutti